Ciao a tutti. Sono tornato di nuovo a questo altro video tutorial. In questo video ti mostrerò come eliminare l'account in Google Drive. Ciao ragazzo, in questo video ti mostrerò come eliminare il tuo account Google Drive. Quindi iniziamo. Per prima cosa assicurati di aver scaricato l'applicazione Google Drive, quindi toccala semplicemente. Come puoi vedere, ti indirizza qui ragazzo per eliminare l'account Google Drive che devi capire significa semplicemente che il tuo account Google, il tuo Google Drive è in esecuzione a causa del tuo account Google. Ora tocca il tuo profilo nell'angolo in alto a destra, quindi tocca l'account Google. Dopo aver toccato l'account Google sarai in grado di vedere un sacco di varie opzioni, ma quello che devi fare è andare su Privacy e Impostazioni vai avanti e semplicemente toccalo. Ora scorri verso il basso fino alla fine dello schermo e quando scorri verso il basso troverai questa opzione nella scheda Altre opzioni che dice Elimina il tuo account Google. Quindi assicurati di essere in dati e Privacy e troverai Elimina il tuo account. Quello che devi fare è semplicemente toccarlo. Quindi ora qui, come puoi vedere, dovresti inserire la tua password per procedere ed eliminare il tuo account Google Drive. Una volta inserita la password, tocca semplicemente il pulsante successivo. Ora che vedi mentre tocchi il pulsante successivo, sarai in grado di accedere a questa pagina in cui vedrai un'interfaccia che dice di eliminare il tuo account Google eliminandolo. Basta semplicemente controllarlo in questo modo, quindi toccare Elimina account. Come puoi vedere, l'account è già stato eliminato. Grazie per aver guardato ragazzi.